In Puglia ci sono 58,8 milioni a disposizione di 11 comuni. I fondi aiuteranno a tagliare IRPEF, IRAP, imposte comunali e contributi previdenziali per i dipendenti. Le zone franche urbane sono state individuate all'interno dei comuni scelti nel 2007 in base all'indice di disagio socio-economico. Le somme destinate sono tutte regionali e le risorse provengono dal Fondo Coesione e Sviluppo. Al bando possono partecipare le imprese di micro e piccola dimensione già costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese. Per alcuni comuni sono in parte ammesse anche le imprese di nuova costituzione, imprese femminili o sociali. Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200.000 euro o di 100.000 per le imprese del settore del trasporto su strada. 60 milioni di euro li ha stanziati la regione Puglia e servono per ridurre le tasse delle imprese che hanno aperto o intendono aprire in quell'area delimitata proprio e perimetrata come zona franca urbana. Le imprese che sono piccole o micro possono beneficiare dell'esenzione dei contributi IMSS per l'assunzione dei dipendenti, dall'esenzione dall'IRAP, dall'esenzione della tassa municipale. Tutto questo per 14 anni, per i primi 5 anni al 100% e poi con una percentuale minore. Ma ovviamente l'obiettivo è quello di agevolare proprio le piccole e micro imprese che operano in zone profondamente disagiate, dove la crisi colpisce di più o dove i quartieri hanno meno infrastrutture e dunque investire lì richiede veramente coraggio. Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria attività all'interno del territorio della zona franca urbana. I comuni interessati sono Andrea, Barletta, Foggia, Lecce, Lucera, Manduria, Manfredonia, Molfetta, San Severo, Santeramo in Colle e infine Taranto.